Oggi parleremo di viaggiare con il nostro cane. Cominciamo dalla documentazione. Per prima cosa, se viaggiamo nella comunità europea, dobbiamo avere il passaporto per il nostro cane. Due, ci saranno tutte le vaccinazioni, ma la cosa principale sarà l'antirabbica. E comunque, prima di muoverci, cerchiamo di informarci in ogni nazione che andiamo quali sono i regolamenti che tutelano il cane. Ricordiamoci il trasporto. Il trasporto va fatto in un kennel o trasportino e non in un divisorio con la rete e neanche con una cintura di sicurezza perché fondamentalmente non sono in regola e poi soprattutto non sono molto utili per il cane. Utili nel senso che non lo proteggano perché se ci succede un incidente, il cane viene sbalzato fuori oppure esce dal baule della macchina e il cane si trova in mezzo al traffico che con la paura scappa potendo andare a finire sotto una macchina o comunque procurare un incidente. Quindi il cane va tutelato dentro un trasportino che sia la giusta grandezza e naturalmente gli insegneremo a entrare nel trasportino a casa facendogli considerare il trasportino una cosa molto bella tipo la sua tana, il suo posto protetto. Quindi a casa gli insegneremo a entrare nel trasportino con lo sportellino sempre aperto dentro gli metteremo i giochi, il cibo. Vedrete che anche a casa certe volte si sentirà più sicuro e andrà a finire nel trasportino. Così poi lo metteremo in macchina e entreremo dentro il trasportino con un premietto. Chiudiamo la porticina e mi raccomando quando apriamo il trasportino sempre la parola stop non è che il cane, questo sempre aprite la macchina il cane scende giù perché è pericolosissimo quindi aprite, stop mettiamo la pettorina non lasciate la pettorina dentro il trasportino quando il cane è nel trasportino perché il cane si potrebbe mangiare la pettorina quindi magari un collarino per quando è nel trasportino poi quando scende gli mettete la pettorina. Il viaggio, secondo anche la durata del viaggio comunque se ogni tre ore due o tre ore riuscite a farlo sgranchire sarebbe la cosa più giusta perché giustamente come ci vogliamo sgranchire noi anche il nostro cane ha bisogno di muoversi. Una cosa importante molte volte vedo anche gente con la macchina che ha il suo cane con la testa fuori dal finestrino no, assolutamente no per problemi agli occhi quindi può venire una congiuntivite uno tite e poi non è sicuro potrebbe uscire dalla macchina così come potrebbe farsi male oltre alle varie problematiche che abbiamo detto prima quindi niente fuori dai finestrini le teste il cane va tenuto in macchina con i finestrini socchiusi mi raccomando d'estate ricordate che la temperatura di un cane parte da 38 gradi e mezzo 39 quindi è facile che la temperatura si alzi molto velocemente quindi in una macchina d'estate chiusa potete capire che potrebbe morire quindi d'estate i cani in macchina no andate in soste dove c'è ombra finestrini aperti acqua a disposizione ma per brevissimo tempo 5 minuti non possiamo lasciare il cane dentro la macchina d'estate ed inverno ricordatevi comunque di tenere un po' un finestrino aperto e non troppo l'aria calda perché il cane comunque soffrirebbe un pochettino magari prima del viaggio non dateli da mangiare così che magari si non ha problemi di vomitare poi ricordatevi di se c'è qualche problema ci sono dei metodi naturali come della valeriana per poter fargli fare un viaggio in tranquillità se avete qualche problema comunque parlate col vostro veterinario che vi darà i consigli utili per il problema e se ha mal d'auto lo stesso vi darà delle indicazioni per poter sopperire a questo problema ciao buon fantasticane